Buongiorno a tutti dal vostro caro amico Giacomo e dal vostro carissimo amico Gohan stamattina sono le 5 e un quarto e se vedete la città, anzi il quartiere, è deserto La gente sta ancora a dormire, stamattina siamo usciti presto perché Gohan è andato in piscina e sicuramente aveva bevuto molta acqua e stamattina aveva bisogno urgentemente di scendere e fare i suoi bisogni perché lui veniva stamattina, veniva da me e come se mi parlasse, se mi dicesse vedi che devo scendere giù perché devo andare a fare il bisogni, aspetta Gohan, aspetta Gohan, saluta gli amici nostri, Gohan, Gohan, di ciao ok, ora termino cari ragazzi, ricordatevi di condividere ricordatevi di, se vi è piaciuto il video, di mettere un pollice in alto e iscrivetevi al nostro canale Gohan in trona ciao ciao dal vostro carabito Gohan e dal vostro carabito Giacomo